Fabiana Beduschi, anche lei qui a Vermezzo, che categorie stai saltando qui? 110-115 con il mio poni San de Cuvron e niente, ieri è andata bene, sono arrivata terza in 110 e ho fatto una barra in 115. È un poni che monti da tanto? Sì. Tu lo conosci bene? Sì, da 4 anni. È difficile da montare oppure è un poni da spingere? No, è abbastanza caldo e dipende un po' dai giorni perché alcune volte parti in fuga e non riesco più a controllarlo. Beh però l'esperienza? Sì, sì, dopo un po' di anni diciamo che lo conosco abbastanza bene. Quando passerà i cavalli? Credo l'anno prossimo perché sono anche troppo alta e allora già i miei istruttori mi hanno consigliato di passare i cavalli. Hai già visto un cavallo che ti piace? No. No. Ti piacerebbe però un bel cavallo? Sì. Magari c'è in scuderia? No, non credo, per ora no. In scuderia avete anche Vlad voi che monta sia i poni che i cavalli? Sì. Avete montato con lui sicuramente? Sì, sì, quasi tutti i giorni. Com'è il centro ippico? Cioè che atmosfera si è creata lì alla Camilla dove monti? C'è un'atmosfera di amicizia comunque fra tutti i ragazzi, sì con Cristina e con Luca e c'è una grande amicizia fra tutti noi e c'è un bel gruppo e spero che non si dividerà mai. Vedi, prossimo anno, questo anno anzi che è appena iniziato, cosa vi prefiggi di fare? Boh, spero che vada bene perché gli altri anni sono iniziati sempre bene ma poi non si sono conclusi al meglio e speriamo che quest'anno vada meglio. Vedi, te lo auguro. Grazie. Ciao. Ciao.